Good morning, ragazzi, benvenuti in questa nuova video-lezione del Prof.Betti. Quella di oggi è una lezione, diciamo così, di geostoria. Infatti, parleremo ancora del Portogallo, ma relativamente, soprattutto, alla sua storia. Bene, come sempre, preparo PowerPoint e cominciamo con la lezione. Cominciamo a raccontare la storia del Portogallo partendo dalle sue origini. Quindi, vediamo la parte più antica della storia portoghese. Innanzitutto, da che cosa deriva il nome? Il nome deriva da uno dei primi insediamenti, uno delle prime città che si conoscono del Portogallo. Questa cittadina si chiamava Portuscale, ed è l'antico nome che ha la città che ancora oggi esiste e si chiama Porto. In antichità si chiamava Portuscale. Da questo nome, detto veloce, insomma, piano piano si è trasformato in Portogallo. Quindi, diciamo, i primi insediamenti erano nella zona attualmente a nord del Portogallo. E, per quanto riguarda, diciamo, un punto di vista politico, verso il 200 a.C. questa zona verrà conquistata dagli antichi romani. La Repubblica Romana, in questo periodo, è in una fase di grande espansione e arrivano anche nella penisola iberica, in quella che è la Spagna e il Portogallo, e proprio in questo periodo fondano delle nuove colonie in Spagna, in cui rientra anche il Portogallo, appunto. L'impero romano durerà a lungo, per diversi secoli, finché le invasioni barbariche non distruggeranno praticamente tutto, quello che era l'impero romano d'Occidente in particolare. E questo avviene, ovviamente, anche per quanto riguarda la penisola iberica e il Portogallo. E, infatti, le invasioni barbariche arrivarono anche lì, in particolare i Visigoti, e, però, dopo un breve regno barbarico, la penisola iberica venne conquistata da un altro popolo, in questa fase molto avanzato, e cioè il popolo degli Arabi, che avevano conquistato praticamente tutto il Nord Africa e, proprio passando dal Nord Africa, erano arrivati fino alla Spagna e al Portogallo. Quindi si ha la conquista araba, una conquista che è testimoniata, ancora oggi, per esempio, dalla presenza degli Azuleios, che sono queste mattonelle dipinte in maniera molto, diciamo, con figure geometriche, e, soprattutto, bianche e azzurre. E questi Azuleios erano proprio tipici di alcuni popoli arabi che li avevano importati in Portogallo, ma che, ormai, oggi, sono tipici anche di questa zona. Per parlare di un regno del Portogallo, come lo conosciamo più o meno oggi, dobbiamo attendere il XII secolo. Infatti, fu proprio nel XII secolo che questa nazione venne unificata sotto un'unica monarchia, guidata inizialmente dal re Alfonso I, che è, appunto, colui che, diciamo, tradizionalmente fonda il regno del Portogallo. La parte successiva l'ho definita quella dell'apogeo, cioè del massimo splendore per quanto riguarda questa civiltà e questa nazione. Infatti, tra il XV e il XVI secolo, in particolare, il Portogallo raggiunse il massimo splendore, soprattutto grazie alle esplorazioni geografiche. In questo periodo si afferma una delle figure più importanti, cioè quella di Enrico, il navigatore. Era il figlio del re del Portogallo, era il figlio minore, infatti non diventerà mai re, ma rimarrà sempre un principe, diciamo, e, grazie a lui, si ebbe un grande impulso alla scoperta, soprattutto, dell'Africa. L'obiettivo era quello di arrivare in Asia, ma, finché Enrico il navigatore sarà vivo, non riusciranno mai i portoghesi a raggiungere l'Asia. Però, intanto, si voleva scoprire l'Africa, anche perché l'Africa, nonostante fosse abbastanza conosciuta, la zona meridionale era quasi completamente, invece, da tutta da scoprire. Questo perché via terra c'era un ostacolo insormontabile per gli europei, e cioè il deserto del Sahara. Gli europei non riuscivano a valicarlo a piedi, e quindi, piano piano, i portoghesi cominciarono a esplorare le coste dell'Africa, scendendo via via sempre più a sud. Tra i personaggi più importanti di queste esplorazioni, ci sono Bartolomeo Díaz, che fu il primo a raggiungere il capo di Buona Speranza, cioè la zona più a sud del Sudafrica, e, una volta arrivato lì, Díaz in realtà voleva continuare il viaggio, ma i marinai si ammutinarono, cioè si ribellarono, e gli dissero, no, senti Bellino, ascolta, gli è bene se torna indietro, e quindi Díaz fu costretto a tornare indietro, e non riuscì ad arrivare in India. Un'impresa che invece riuscì, qualche anno dopo, a Vasco da Gama, che invece riuscì a doppiare il capo di Buona Speranza e arrivare a Calicut, la città che attualmente noi chiamiamo Calcutta dell'India, e a commerciare, iniziare a commerciare con gli indiani. Oltre a questi due, vi ricordo un altro nome importantissimo, è quello di Magellano, Ferdinando Magellano, che però, nonostante fosse il portoghese, attuò la sua grande impresa, cioè il giro del mondo via nave, per la corona spagnola, quindi, diciamo, è sempre un portoghese, però la sua impresa è più legata, diciamo, alla Spagna, e i portoghesi in questo periodo fondarono diverse colonie. Le più importanti, sicuramente la prima è quella in Brasile, che rimase per diversi secoli, e poi anche in India, in Africa. La colonia brasiliana era una colonia anche proprio di popolamento, cioè molti portoghesi andarono a vivere lì, e il re del Portogallo era anche re del Brasile e lo controllava politicamente in maniera diretta. In India, in particolare, invece, il Portogallo non riusciva a controllare un territorio così vasto e così popolato. Ricordiamoci che il Portogallo non ha mai avuto moltissimi abitanti, e quindi si limitava a controllare le città principali, quelle che gli interessavano di più, soprattutto per il commercio. Il periodo successivo, invece, lo possiamo definire come quello del declino. Infatti, a partire soprattutto dal 1700, la monarchia portoghese comincia a decadere. Non crolla del tutto, ma perde buona parte del suo splendore, e così anche l'intero paese, che entra in una fase di profonda crisi economica. Una crisi sottolineata anche da un evento casuale, ma emblematico, significativo, cioè il terribile terremoto del 1755, che colpì la capitale del Portogallo, cioè la città di Lisbona. Lisbona venne praticamente rasa al suolo, e ancora oggi, se si visita la capitale portoghese, si possono vedere alcune testimonianze di questo terribile terremoto, in particolare il convento do Carmo, che è questo convento scoperchiato dal terremoto, che è stato lasciato lì, proprio a testimonianza di questo evento terremendo. Un'altra data importante, che sempre ci dimostra il periodo di crisi nel Portogallo, è il 1822, quando il Brasile si dichiara indipendente dal Portogallo. Quindi il Portogallo perde la sua colonia più importante, e da cui importava tantissime materie prime. Ancora oggi, però, insomma, il Brasile parla portoghese, proprio a causa del fatto che era stata una colonia, e le colonie che restano al Portogallo sono soltanto quelle in Africa. In particolare, il Mozambico e l'Angola sono due fra le più importanti. Infine, arriviamo a vedere quella che è stata la storia del Portogallo nel Novecento. Dopo secoli di declino, alla fine la monarchia portoghese crolla. Nel 1910 ci fu una rivoluzione popolare che cacciò il re del Portogallo. Si aprì un periodo molto caotico che va più o meno dal 1910 al 1926. Il Portogallo fu una repubblica, però questa repubblica non funzionava bene. I governi cadevano in continuazione, non si riusciva a governare per più di un anno di seguito il paese, e quindi si entrò in un periodo di grandissima crisi. Finché non ci fu nel 1926 un colpo di Stato militare che portò ad una dittatura dell'esercito, una dittatura che a partire dal 1932 venne assunta da una persona ben precisa che mantenne il potere per più di 30 anni, e cioè la dittatura di Antonio Salazar, che dal 1932 al 1968 guidò il paese tenendolo tra l'altro fuori dalla Seconda Guerra Mondiale. Fu una dittatura piuttosto dura, Salazar si rifaceva un po' al fascismo italiano, anche se non era proprio la stessa cosa, però si comportava comunque come un dittatore. Nel 68 Salazar ebbe un incidente, cadde e rimase paralizzato. Quindi nel 68 decise di abdicare, lasciare il potere, perché non era più in grado di guidare il paese. Al suo posto ci fu un successore, un nuovo dittatore, Marcello Caetano, che durò qualche anno, finché nel 1974 una delle rivoluzioni dal nome più bello, la Rivoluzione dei Garofani, portò alla democrazia, fece crollare la dittatura di Caetano e portò finalmente la democrazia in Portogallo. Il nome della rivoluzione, Rivoluzione dei Garofani, è proprio per l'evento che vedete in questa foto, cioè una fioraia di Lisbona, mentre l'esercito stava cacciando, in pratica, il dittatore, questa fioraia di Lisbona uscì con alcuni garofani che mise nelle canne dei fucili dell'esercito e da questo deriva proprio il nome di Rivoluzione dei Garofani. Quindi a partire dal 1976, ci furono un paio d'anni per organizzare le elezioni, e poi a partire dal 1976 il Portogallo diventò una repubblica semipresidenziale, si chiama, in realtà il funzionamento è molto simile al nostro, nel senso che c'è un presidente della repubblica che poi nomina un governo che poi governerà per quattro anni, se non sbaglio, e il presidente della repubblica, la differenza è che da noi viene eletto dal Parlamento, mentre lì viene eletto proprio dalla popolazione. Comunque, come sempre, spero che questa videolezione mi sia piaciuta e ci vediamo in classe.